il senso della vita qual è il senso della vita è la vita è una bella montagna da scalare la vita il senso della mia vita è sorridere qualsiasi cosa succeda non l'ho ancora trovato sono sempre la ricerca forse siamo al mondo per aiutare gli altri ma questo non non mi basta io ho la sclerosi multipla quella è la mia più grossa montagna che tutti i giorni scalo avere un lavoro che mi dia un'indipendenza economica credo che la difficoltà più grande che abbia mai avuto è senz'altro nella gioia la nascita di un figlio una salita durissima verso la comprensione in vetta c'è il panorama che il futuro una vita in cui dopo un errore ci si rialza e ci si riprova capire quali sono i propri limiti sia psicologici sia fisici ma anche oltrepassarli per sapere di essere circondati da altri esseri umani mi rendo conto di far felici tante persone e questo mi appaga tantissimo la voglia di ritrovare dei valori che appartengono ad un vivere quotidiano semplice avere il diritto di sbagliare di non essere perfetti perché nessuno può essere perfetto la cosa secondo me che più ci caratterizza come essere umani è l'imprevedibilità essere umani e essere fragili essere umani significa aver paura è un'imprevedibile